I presidenti delle commissioni sanità dell'Arts, Pifo Di Giacomo, della commissione territorio ambiente, Mariella Maggio, chiedono del ritiro del provvedimento che autorizza l'impianto di smaltimento di rifiuti tossici e non a scicli. La conferenza dei capigruppo all'Arts ha dato l'ok a fare coincidere il sindaco del comune con il sindaco della città metropolitana, così come prevede la legge del Rio sulle ex province. La norma potrebbe arrivare in aula per la discussione già domani. Atto vandalico ai danni della Camera del Lavoro di Vittoria e Gnotia, dopo aver diverto la serratura con una vite, l'hanno murata con della colla per topi. Il segretario cittadino esporto denuncia alla polizia che sta indagando. Dure le parole del segretario Avola. Sopralluogo di due funzionari dell'assessorato regionale alla pesca presso il porto di Scoglitti, esito positivo per l'assessore Fiorellini. I due funzionari entro il 31 maggio prossimo hanno garantito che il saldo dei 153 mila euro avverrà. Buonasera telespettatori di MTG, ben trovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione sul video mediterraneo che in apertura vede ancora una volta. L'amplimento di una discarica in Contrada Cuturi a Scicli. Siamo contrari sul piano istituzionale alla realizzazione in Contrada Cuturi di una discarica perché viola un bene UNESCO. Ecco il coro unanime dei presenti questa mattina in audizione nella seduta congiunta delle commissioni Sanità e Ambiente all'Arti. Il commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Dario Calta Bellotta, ha ribadito il suo no alla realizzazione della discarica. Intanto l'ARPA non ha mai espresso alcune parere favorevole rispetto alla realizzazione dell'impianto. Tutti i dettagli in questo servizio. E' un atto dell'ARPA che invita l'amministrazione centrale a ritirare in autotutela l'atto perché appunto da questa documentazione che è stata rappresentata oggi si evince che l'ARPA non ha dato nessuna, nessunissima autorizzazione. E dunque tutto il procedimento rischia di cadere, sostanzialmente cade. Cioè praticamente le nostre preoccupazioni che erano quelle che mancavano delle precise prese di posizione dalla parte di ARPA che autorizzasse sono state veritiere perché l'ARPA adesso dice io non ho mai autorizzato nulla. Lo aveva già anticipato ieri sera la senatrice Venerina Padua poco prima che iniziasse l'incontro pubblico da lei organizzato. Ed è stato rimarcato a mezzogiorno di oggi nel corso della riunione congiunta delle commissioni sanità e ambiente all'ARS. Dunque l'ARPA non ha mai espresso alcun parere favorevole rispetto alla realizzazione del mega impianto di smaltimento rifiuti tossici e non incontrato a Cuturi e Scicli. E lo ha anche ribadito in audizione il direttore dell'ARPA Lucia Antoci che ha chiesto la rettifica del provvedimento. L'autorizzazione, dichiarano i presidenti delle due commissioni all'ARS, Pippo Di Giacomo e Mariella Maggio, non appare immune da vizi di legittimità per ragioni di tutela della salute pubblica, dell'ambiente e dei beni culturali e paesagistici. Pertanto chiediamo il ritiro di ogni procedura. Dunque la vicenda legata alle autorizzazioni resta ancora senza risposta e deve essere chiarita nel più breve tempo possibile, ha detto ancora Di Giacomo. Ascoltati dalla commissione questa mattina a Palermo anche i commissari del comune di Scicli e il commissario dell'ex provincia Dario Cartabellotta che hanno dichiarato il loro no all'impianto che dovrebbe raccogliere 800.000 tonnellate in quattro anni, autorizzato a pochi chilometri dal centro abitato. Sia i commissari che Cartabellotta hanno ancora una volta confermato di non aver mai espresso un parere favorevole al progetto. Il parere finale, hanno detto, durante la commissione è stato corredato esclusivamente da pareri tecnici, nonostante la programmazione strategica e ambientale sia di competenza degli organi politici. Dario Cartabellotta ha anche aggiunto che l'ufficio legale dell'ex provincia regionale di Ragusa impugnerà il provvedimento. Appare perlomeno curioso come i rappresentanti di due enti e dell'Agenzia per l'Ambiente abbiano detto di non aver espresso alcun parere. E' quanto dichiara il deputato regionale ebleo Orazio Ragusa. Ma allora, come è arrivata questa autorizzazione a Palermo? I cittadini sciquitani vogliono sapere come stanno le cose. E noi, conclude Orazio Ragusa, continueremo a sostenerli nel contesto di questa complicata battaglia. Intanto, proprio gli sciquitani si stanno organizzando ad una mobilitazione contro il mega impianto di Contrada Cuturi. Venerdì prossimo alle 20 ci sarà una manifestazione con partenza da Piazza Busacca. Tanto per quanto riguarda la petizione contro l'impianto, sono state già raccolte 4.500 firme. Arriva il sì dalla conferenza dei capigruppo all'Assemblea regionale siciliana per fare coincidere il sindaco del capoluogo con il sindaco della città metropolitana, come prevede la legge del Rio nella riforma dell'ex provincia. I capigruppo dell'Ars hanno firmato un emendamento alla legge straccio che prevede il recepimento del Rio. Proprio di recente Palazzo Chigi ha impugnato per la seconda volta la riforma sulle province approvata da Palazzo De Normanni. La legge approvata dall'Ars aveva bocciato infatti l'articolo secondo cui il sindaco del comune coincida con quello della città metropolitana. Per qualcuno uno sgarbo a il sindaco di Palermo, Leo Luca Orlando e di Catania Enzo Bianco. A questo punto la norma potrebbe arrivare in aula già domani durante la discussione e il voto della legge straccio alla finanziaria. Corfilac, Consorzio di Bonifica ed Aras, la regione sempre in ritardo per il pagamento degli stipendi ai dipendenti, sono società abbandonate a se stesse senza un piano di rilancio, a pagarne le spese sono sempre i lavoratori. Il punto della situazione nel servizio di Viviana Sammito. Non è assolutamente tollerabile che la regione siciliana debba ancora trasferire al Corfilac 830.000 euro del contributo 2015 e che per tale ragione i dipendenti debbano percepire ancora sette mensilità pregresse. Salvatore Terranova della CGL ha denunciato alle autorità della regione dell'emissione dei mandati di pagamento che il consorzio ricerca filiera lattiero caseari attende da un anno. Prima l'Arsa ha messo il Corfilac a finanziamento, ma solo attraverso la partecipazione ai bandi. Come dire che la regione aveva trovato il modo più indolore di farlo morire, ha commentato Terranova. Ora sta cercando di porvi rimedio, ritornando al finanziamento del contributo annuo, ma il percorso è ancora lungo perché prevede il passaggio di nuovo all'Arsa e non è esclusa all'ultimo momento qualche sorpresa negativa. Dal presidente della Commissione bilancio all'Arsa, Vincenzo Vinciullo, erano arrivate buone notizie, ma dai fondi ad oggi neanche l'ombra e a pagarne le spese sono sempre dipendenti. In questa fase di crisi, l'indice è puntato anche contro i deputati regionali blei. Terranova ha formulato la critica con una domanda. Ma è accettabile che ogni volta occorrono comunicati stampa, viaggi a Palermo, incontri, polemiche, scontri per rendere eseguibile ciò che è un atto di gestione normalissimo, come il Corfilac e l'Aras, i dipendenti dell'Associazione degli Allevatori Siciliani, non alcun piano di rilancio aziendale programmato. C'è dunque anche un problema di prospettiva che resta ancora irrisolto. Anche quest'anno la Regione, ha detto al segretario della Camera del Lavoro della CGL, ha voluto complicare la vita dell'ente, creando una condizione che potrà decretarne la fine. A Ragusa, il settore allevatore e zootecnia è bloccato. Gli stipendi non sono neanche stati accreditati dalla Regione. L'ufficio anagrafe dell'Aras rimane aperto ormai solo tre volte a settimana. Nelle altre province della Regione, le saracinesche sono abbassate. I dipendenti non percepiscono lo stipendio da dieci mesi. Tensione alta anche al Consorzio di Bonifica. Venerdì alle 11, nel piazzale della sede centrale del Consorzio, è stato organizzato un incontro con tutti i deputati regionali. Da un lato ci sono i 149 lavoratori a tempo indeterminato che non percepiscono lo stipendio da sei mesi. E dall'altro la vicenda riguardante una serie di sentenze emesse dalla Magistratura del Lavoro in merito ai contenziosi aperti dai lavoratori ai danni del Consorzio per il riconoscimento della posizione lavorativa e contributiva da tempo determinato a tempo indeterminato. Si tratta di lavoratori che facevano parte delle garanzie occupazionali circa 280 e che andrebbero a pesare sulle casse dell'ente per circa 10 milioni di euro. Torniamo adesso a parlare della Servizi per Modica. Il segretario della Camera del Lavoro, Salvatore Terranova, ha denunciato che l'amministrazione comunale della città sta di fatto determinando la morte della partecipata modicana. Ha chiesto che il tema venga discusso in Consiglio Comunale. Sull'argomento abbiamo ascoltato il presidente della Civica Sise di Modica, Roberto Garaffa. Saranno convocati i capigruppo consigliari di Palazzo San Domenico per discutere della SPM, a dichiararlo il presidente del Consiglio Comunale di Modica, Roberto Garaffa. A lanciare l'allarme sul futuro lavorativo dei dipendenti della partecipata modicana era stato il segretario della Camera del Lavoro di Modica, Salvatore Terranova, che aveva puntato i riflettori sull'ambiguo atteggiamento dell'amministrazione Abbate. Se da una parte la giunta modicana annuncia di voler salvare la Servizi per Modica, dall'altra, tramite una recente delibera, ne sancisce la morte. Come? Semplice. Tutti i servizi di competenza della SPM saranno esternalizzati e dunque affidati a terzi. Questo, secondo quanto aveva dichiarato anche il segretario Terranova. Il futuro lavorativo dei dipendenti ne risulta così compromesso per la CGL che ieri ha mostrato la volontà di far approdare in Consiglio Comunale il delicato tema. Mi sto già muovendo per fare in modo di far arrivare in Consiglio il caso della SPM, così il presidente del Consiglio Comunale di Modica, Roberto Garaffa. Faremo una conferenza dei capigruppo giovedì pomeriggio alle 19, prima del Consiglio Comunale, perché è giusto che io coinvolga i capigruppo in questa richiesta, perché è una richiesta forte, Consiglio Comunale è aperto. Io ritengo che il Consiglio Comunale, in faccende così particolari, così delicate, ma delicate non solo per il lavoro sacrosanto per quanto riguarda i lavoratori della SPM, ma proprio per l'organizzazione strutturale di un comune, credo che il Consiglio debba essere pienamente coinvolto e l'argomento debba essere sviscerato fino in fondo anche con l'apporto importantissimo, determinante dell'organo democratico per eccellenza della città, che è il Consiglio Comunale. E adesso parliamo di cronaca, perché sono stati sorpresi con 200 grammi di ascici dai carabinieri della compagnia di Modica, arrestati due giovani ciclitani incensurati, sono stati sequestrati anche alcuni grammi di marijuana in materiale per il confezionamento e il taglio dello stupefacente. Erano a bordo della loro autovettura, i carabinieri di cicli hanno intimato l'alta, sono stati fermati ieri per un semplice controllo, ma sono stati arrestati due incensurati cicli, ciclitani di 22 e 26 anni, prima di fermarsi al posto di blocco, hanno gettato dal finestrino un involucro contenente Ashish, i militari lo hanno recuperato. Nel corso della perquisizione veicolare è stato rinvenuto un altro involucro con 205 grammi della stessa sostanza stupefacente. I carabinieri, considerate la droga sequestrata e sospettando che i due insospettabili giovani potessero possedere altro ingente quantitativo, hanno approfondito la perquisizione nella casa dei due ragazzi, dove sono stati trovati 3 grammi di marijuana, materiale per il confezionamento e per il taglio della sostanza stupefacente. Concluso il controllo, i due incensurati sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e su disposizione del sostituto procuratore di turno, Monica Monego, sono stati sottoposti agli arresti domiciliari. I carabinieri intanto hanno sequestrato tutta la sostanza stupefacente per essere inviati al laboratorio di analisi dell'ASP di Ragusa per i risultati qualitativi e quantitativi. I militari stanno continuando le indagini anche per accertare la provenienza della droga e la piazza di sparcio che potrebbe anche non fermarsi solo a scicli. C'è stato un incidente ieri pomeriggio sulla via Sorda a San Pieri. La Modica Mare, incontrata a Nacalino, ferito un 36enne, guarirà in 15 giorni. Intervenuta la polizia locale che ha rilevato il sinistro, l'utilitaria nell'effettuare una curva a direzione Modica, Marina di Modica, avrebbe sfiorato un pullman che proveniva dal senso opposto finendo la corsa contro un muro. L'automobilista è stato trasportato dal 118 al pronto soccorso dell'ospedale maggiore. La polizia locale sta comunque cercando di capire l'esatta dinamica e le responsabilità. Non ci faremo intimidire, restiamo fermi sulle nostre avvertenze. Così Giovanni Avola, segretario generale della CGL di Ragusa e Giovanni Scifo, segretario cittadino della Camera del Lavoro di Vittoria che intervengono sull'atto vandalico ai danni della Camera del Lavoro di Vittoria. I gnoti questa notte hanno murato la serratura della porta d'ingresso dei locali con l'intento di impedire l'agibilità quotidiana di dirigenti e utenza. Indaga la polizia. Atto vandalico ai danni della Camera del Lavoro di Vittoria sul quale sta indagando la polizia del locale commissariato che questa mattina è intervenuta nella sede di via Bixio. È stato il segretario cittadino Giuseppe Scifo a chiamare le forze dell'ordine dopo che era stato avvertito da un suo collaboratore alle 7 del mattino, trovando la serratura del portoncino danneggiata da una vite e murata con un liquido viscoso trasparente che pare sia colla per topi, in modo tale da impedire l'agibilità di dirigenti e utenza. Le indagini dunque hanno portato anche a sentire sia il segretario Scifo che a sporto denuncia che altre persone, mentre si sta cercando il contributo delle immagini delle telecamere di videosorveglianza e della collaborazione dei cittadini. Sul posto questa mattina anche la polizia scientifica per i rilievi del caso, mentre i controlli saranno intensificati. Ovviamente a scendere in campo è rappresentanza di tutta la CGL Blea è stato il segretario generale Giovanni Avola che insieme al cittadino Scifo dichiarano se questo atto vandalico si ponesse l'obiettivo di intimidire l'organizzazione per le numerose e complesse vertenze in corso non ci sposteremo di un millimetro rispetto ai nostri comportamenti e alle decisioni assunte. Crediamo che l'atteggiamento vigliacco e meschino di chi crede di cambiare il corso della nostra azione, concludono Avola e Scifo, ci dà più forza e determinazione per continuare il nostro percorso di tutela dei lavoratori, dei precari e dei disoccupati. I comuni di Ispica e Pozzallo voleranno a Roma il prossimo 11 maggio per ricevere la bandiera blu, i due sindaci hanno già ricevuto l'invito e hanno comunicato i nominativi che rappresenteranno i due enti a Roma, c'è anche qualche riserva per il comune di Ragusa in quanto ad oggi non è dato sapere se anche Palazzo dell'Aquila sarà tra gli blei in viaggio o meno, bocche cucite che potrebbero avere una doppia interpretazione. Ne vediamo. Si avvicina l'11 maggio e con esso la cerimonia di consegna della bandiera blu un ambito riconoscimento internazionale istituito nel 1987, anno europeo dell'ambiente che viene assegnato ogni anno in 49 paesi, inizialmente solo europei, più recentemente anche extraeuropei, con in supporto la partecipazione delle due agenzie dell'ONU, il Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente e l'Organizzazione Mondiale del Turismo, con cui la FEE ha sottoscritto un protocollo di partnership globale e riconosciuta dall'UNESCO come leader mondiale per l'educazione ambientale e l'educazione allo sviluppo sostenibile. Al momento sono due i comuni ufficiali della provincia eblea che beneficeranno della bandiera blu, Ispica con la sua costa che va da Santa Maria del Focallo a Marina di Marza e Pozzallo. Bocche cucite invece dal comune di Ragusa, c'è un mistero dietro la consegna della bandiera blu a Palazzo dell'Aquila. Entro il 7 maggio intanto si devono comunicare i nominativi dei rappresentanti dei comuni che voleranno a Roma per ritirare il riconoscimento. Già l'anno scorso Ragusa era stata esclusa dai comuni blei che si erano aggiudicati la bandiera blu, una notizia che giunse come un fulmine al Ciel Sereno per il sindaco Piccitto e la sua amministrazione e che nel 2015 scatenò parecchie polemiche, considerato che la bandiera blu era un riconoscimento che Ragusa aveva dal 2009 e che per la prima volta nel 2015 gli fu tolta. Dunque il comune di Ragusa ci sarà o no l'11 maggio alla cerimonia di consegna? Sembra che al momento l'amministrazione comunale non si possa pronunciare un silenzio che potrebbe essere interpretato in due modi o una seconda eventuale esclusione e quindi è meglio tacere anche se per pochi giorni o un invito non ancora ricevuto. Noi speriamo nella seconda anche perché è una bella notizia che anche Ragusa come Ispiche e Pozzallo fosse inserita tra i comuni valutati positivamente per la qualità delle acque di balneazione, la depurazione delle acque reflui, la gestione dei rifiuti, la regolamentazione del traffico veicolare, la sicurezza e i servizi in spiaggia. Intanto l'ufficio stampa della FE, contattato da noi telefonicamente, ha risposto che gli inviti vengono spediti giorno dopo giorno e che dunque l'elenco dei comuni che beneficeranno della bandiera blu è sempre in evoluzione fino all'11 maggio. Speriamo dunque che nel 2016 tra gli blei in viaggio per Roma ci sia anche una delegazione del comune ragusano. Se così non dovesse essere allora potrebbe essere un ulteriore fallimento per la giunta Piccitto. Altri otto giorni e sapremo cosa accadrà. Sono stati illustrati stamani nella sede della CGL di Ragusa i temi della manifestazione regionale che si svolgerà il prossimo 7 maggio a Palermo. La mobilitazione generale è stata promossa dalla CGL, CIS e UIL Sicilia. Investimenti, infrastrutture, ambiente, riforme. Questi punti cardine delle rivendicazioni di CGL, CIS e UIL che per sabato prossimo hanno promosso una manifestazione che si svolgerà a Palermo. Una grande mobilitazione per contestare il governo Crocetta, giudicato il peggiore in assoluto che ci sia mai stato in Sicilia. Oggi il programma è stato presentato nel corso di un incontro con i giornalisti che si è svolto nella sede della CGL di Ragusa. Saranno circa 600 le persone che partiranno sabato prossimo da Via Zama. La Sicilia è indietro rispetto al resto d'Italia. Persino le ultime misure annunciate da Renzi nel giorno il 30 di aprile ci appaiono più un annuncio anziché un fatto reale. Ci auguriamo che il governo dalla nostra iniziativa e dalle nostre richieste possa almeno nel corso degli ultimi 18 mesi dare una svolta. Anche la provincia di Ragusa ha molte vertenze in sospeso come il caso dei lavoratori del Corflac, del Consorzio di Bonifiche e dei forestali. Per quanto riguarda Ragusa ovviamente noi l'abbiamo più volte denunziato singolarmente e unitariamente. Abbiamo detto che molte cose non vanno. Tantissimi settori sono stati abbandonati a se stessi. Molti lavoratori pur continuando a lavorare non percepiscono gli stipendi. Mancano le infrastrutture. Non c'è un piano reale di rilancio tranne in quelle occasioni di quelle visite telecomandate del presidente Crocetto o di qualche assessore che gira il nostro territorio e che fa degli annunci che poi rimangono soltanto annunci. Nonostante il giudizio negativo sulle politiche attuate dal governo Crocetta la manifestazione è improntata su proposte che possano dare una svolta positiva alle problematiche che si registrano in tutta l'isola. I ditemi sono tanti e fare un elenco sarebbe oggi impossibile ma l'unica cosa che ci preme e che noi vogliamo sottolineare è che questa nostra regione sta andando sempre più giù. Non riusciamo ad avere un minimo di risorse per l'occupazione, per le infrastrutture e per tutto questo. Noi invidiamo i giovani, i pensionati, i disoccupati, tutti, tutti coloro che credono ancora in questa Sicilia, in questo nostro paese di venire a Palermo e di protestare assieme a noi contro questo governo regionale. Sopraluogo questa mattina al porto di Scoglitti da parte di due funzionari dell'assessorato regionale alla pesca presso il mercato ittico e nei box per i pescatori e per la vendita del pescato servito alla rendicontazione delle somme residue e del finanziamento del progetto di ammodernamento e messa in sicurezza del porto. Il sopralluogo di chi ha dichiarato l'assessore al bilancio Nadia Fiorellini ha avuto esito positivo e fa seguito all'incontro che si è svolto lo scorso 9 marzo a Palermo con il dirigente regionale del Dipartimento Pesca Dario Carta Bellotta. In quell'occasione erano state sbloccate le somme dovute dalla regione per la messa in sicurezza del porto. Si tratta di un finanziamento del FEP 2007-2013 che ammonta a 153 mila euro. La somma era stata anticipata nel gennaio 2014 dal Comune per pagare la ditta che aveva effettuato i lavori questa mattina. Al termine del sopralluogo i due funzionari regionali hanno garantito che il saldo avverrà entro il 31 maggio di quest'anno. Ci fermiamo, adesso c'è la pubblicità tra poco. L'Ecoci Sud dopo la pausa pubblicitaria ha fatto tappa ieri Ragusa alla manifestazione denominata Teofonia, note di fedi per un'unica armonia. Il progetto itinerante promosso dalla comunità religiosa islamica e dall'Unione Induista Italiana in collaborazione con il Ministero dell'Interno. Sentiamo Carmela Minardo. Il dialogo e l'incrocio tra culture e religioni diverse attraverso il linguaggio universale della danza e della musica. Ragusa, Lembo di Sicilia, proiettato nel Mediterraneo e da millenni scambio e incrocio di civiltà, sede naturale per ospitare nel teatro Donna Fugata di Ibla, teofonia, note di fedi per un'unica armonia. Progetto itinerante promosso dalla comunità religiosa islamica e dall'Unione Induista Italiana in collaborazione con l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziale della Presidenza del Consiglio Politiche Sociali e con il patrocinio del Ministero dell'Interno. Ragusa è protagonista, è ormai da tempo, nell'accoglienza dei migranti. Ragusa si è certamente distinta come impegno e devo dire anche come disponibilità, come apertura rispetto a temi che in altre parti d'Italia invece generano una qualche polemica, una qualche sofferenza e di questo devo essere grato alla gente di Ragusa e alla gente siciliana. Poi è chiaro che in un percorso di integrazione il tema delle comunità religiose e del dialogo tra le comunità diventa strategico perché è il percorso attraverso il quale si costruisce davvero una società inclusiva senza lasciare nessuno indietro. Esponenti delle più diffuse confessioni religiose, musulmana, buddista, induista, cristiano ortodossa e cattolica a confronto su quattro parole chiave, misericordia, dialogo, integrazione e pace. Nessuna nazionalità e nessuna religione può essere strumentalizzata per la violenza perché la violenza non ci appartiene e anzi ci appartiene insieme costruire la pace. degli scontri tra le persone ci sono però appunto vengono strumentalizzati per altri fini, per fini politici e spesso anche elettoralistici e cose di questo genere. Cosa può fare ogni confessione religiosa parlando alla propria base di seguaci per rimuovere ogni alibi che favorisca la guerra e la violenza? Parlare in modo positivo e quindi non criticare le altre religioni, quello dovrebbe essere un imperativo di ogni religione, quindi di ogni campo di religione, di parlare bene delle altre religioni perché tutte hanno in comune uno stesso denominatore che è quello di salvaguardare l'uomo e soprattutto i suoi valori. Quindi da una parte o dall'altra con l'esempio, sicuramente con l'esempio. E non ci sono ulteriori aggiornamenti, termina qui questa edizione di MTG, grazie come sempre per averci seguito e vi auguro una buona serata, arrivederci a domani.